Buongiorno amici di casainofferta.it, ci troviamo oggi a Galgagnano tra Paolo, Zerobo Persico e Lodi, molto molto comodo con San Donato milanese e il metro e oggi vediamo questo bel tre locali, più cantina e posto auto di proprietà. Questo è l'accesso di questo appartamento che trovate su caseinofferta.it, un servizio di casatotale.it, questo infatti è un appartamento acquistabile anche con mutuototale.it al 100%, con mini rata da 300 euro mensili. Come vedete è termo autonomo, ha la sua caldaria funzionante, tutto è funzionante. Un appartamento che è l'ideale per liberare un'altra famiglia dall'affitto e magari sostituire un affitto di 700-800 euro al mese a Milano con una mini rata di mutuo totale da 300 euro al mese, con pochissime spese, in quanto tra l'altro l'appartamento è termo autonomo, tre locali molto ampio, doppia esposizione, come vedete sia il terrazzo lato soggiorno. Un appartamento molto molto comodo, devo dire soprattutto comodo, ecco, con doppio affaccio, quindi orientato sia ad est che ad ovest, che va proprio sulla strada che va da Zelo Buon Persico a Lodi, con la fermata del Pullman di fronte, tra l'altro al condominio. La faccia su una corte interna molto molto carina, silenziosa, non so se riescono a sentire gli uccellini cinguettare, se sto zitto, si sentono. Invece devo dire appunto che questo è l'ingresso, come abbiamo visto disimpegno, soggiorno col suo terrazzo, molto comodo come abbiamo visto, da qui sono appena rientrato. Qui il soggiorno. Appena imbiancato, la foniera è nuova. Cucina, quindi abbiamo detto abitabile, già utilizzabile, funzionante, già con la sua acqua, il gas, la luce, eccetera. Come vedete è appena stato rimbiancato. Anche la cucina ha il suo affaccio sul terrazzo, come ho visto di zanzariere, già. Questo è il condominio all'interno, di fronte, siamo proprio di fronte al municipio, quello è il municipio, e alle fermate del Pullman, davanti casa, come vedete proprio, per andare verso San Donato, milanese, metrò, linea gialla, con molta comodità. Condominio molto curato, silenzioso, armonico, famiglie ci vanno d'accordo, con molta educazione e cordialità. Condominio davvero ottimo per comprare, con Mutuototale.it, la propria prima casa. Siamo a Galganiano, in via Perlodi, 6-8, questa è una possibilità offerta da caseinofferta.it, il servizio di ricerca e selezione case, che effettuiamo noi di casatotale.it, case acquistabili anche, con Mutuototale.it al 100%, in questo caso una mini rata da 300 euro mensili. Questo è il bagno, come vedete, molto molto ampio, molto molto comodo, anche qui appena imbiancato, tutto ovviamente funzionante, già pronto per venire a viverci. Questa è una bella cameretta, con parquet in terra, ve l'ha imbiancata, anche in questo caso, come le altre stanze. Poi abbiamo un ripostiglio, che può ovviamente essere anche una cabina armadio di una delle due camere, perché abbiamo da un lato, appunto, la cameretta e dall'altro, la camera da letto, la camera matrimoniale. La metto così in monitor, così magari si vede meglio. E questa è la camera, appunto, matrimoniale. Ovviamente poi se si vuole, che chiaramente si può cambiare l'arredamento. Se invece si preferisce tenere e cominciare a utilizzare questo arredamento, magari cambiando anche solo i materassi, si può, funziona, è tutto funzionante, funzionale. Ovviamente anche in questo caso zanzariere già presenti. Come vedete la casa è molto luminosa, perché è esposta su due lati. Quindi per informazioni potete chiamarmi al 33-48-62-10 o attraverso il sito caseinofferta.it per chiedere informazioni su questo appartamento che si trova nel comune di Galgagnano, Galgagnano, via Perlodi, numero 6, barra 8. casainofferta.it, è un servizio di casatotale.it offerto dal mutuototale.it che permette di acquistare la tua casa con un mutuo totale, appunto, anche al 100% senza anticipo. In questo caso con una mini rata di circa 300 euro al mese meno della metà invece di un qualsiasi affitto di Milano sul lato interno. Vi aspettiamo su caseinofferta.it un servizio di casatotale.it e se non Marco De Vita il mio telefono è 33-33-48-62-10 Arrivederci amici